Amici bellini, non è andata proprio bene, non siamo dei bravi gufetti, assolutamente, anzi, secondo me la situazione si è complicata alquanto, ma vogliamo parlarne bene nel dettaglio? Direi cominciamo. E' un martedì pazzesco, rumori incredibili, ma non ho capito, ma se tu non eri malato perché ti sei fatto l'iniezione? No, no, non è così, non è così, no, 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 quando ti fanno il vaccino non ti iniettano il virus, ti iniettano una particella RNA, non è il virus, è come se fosse, diciamo, la protezione, ma lascia stare, non ti preoccupare. Ma allora è una leggenda metropolitana? Esatto, esatto. Come il sassuolo che si scansa sempre con la Juve? No, quello invece è vero, quello invece è una cosa vera, abbiate pazienza, no, iscrivetevi al canale, lasciate un like, i bambini devono cominciare a capire. Dire certe cose, ma al di là degli scherzi, prima di tutto mi piace sottolineare, benvenuto Alessandro Pucca, e mi piace sottolineare una cosa, che c'è una linea verde su questo canale. Io mi rivolgo sempre, penso sempre di parlare con gli adulti, con quelli della mia età, ma in realtà no, c'è una linea verde di giovani tifosi a cui il calcio piace, vogliono pure approfondire, quindi io mi devo rivolgere anche a loro e ho una responsabilità, non devo dire cose, non devo farli anche disamorare dal calcio e non voglio parlare né di scansuolo, né di cose del genere, però sto per farvi vedere qua un'immaginetta che potrebbe anche essere poi censurata perché su Twitter non me l'hanno fatto vedere, mi hanno bloccato l'account, quindi io la metto, mi prendo il mio rischio, se poi me lo bloccano questo video si autodistruggerà appena me lo bloccano e quando non fa niente, lo taglio, ci sarà un taglionetto. Ecco il taglionetto. No, e quello che voglio far vedere, non solo, insomma, la simulazione che io non sopporto e sto facendo partire questa battaglia personale, non ti devi toccare in faccia, ti ha toccato qua, ti sei fatto malissimo, benissimo, toccati qua, toccati qua vuol dire che ti ha fatto malissimo, che teneva gli artigli di Wolverine, I am Iron Man, ma lui teneva gli artigli di Wolverine, ti ha stracciato le carni e va benissimo, però toccati qua, non toccarti in faccia e ti rotoli, no, 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 signor Ronaldo, no, non va bene. E questa è la mia battaglia personale e va bene, lo fanno tutti, me la prenderò anche con i giocatori miei, chiaro, e sia chiaro, fatemi vedere cose che si toccano gli occhi in faccia e io me la prenderò anche con loro. No, io quello che devo sottolineare qua è che Marlon chiede scusa all'arbitro, chiede scusa a Ronaldo e chiede scusa pure al Papa, probabilmente, si è pentito sulla via di Damasco e si è sentito male. Ora, nelle partite vere, quando uno ti simula in faccia, no, è fallo, c'è, c'è fallo, va bene, ci può stare anche l'ammunizione, insomma, imprudenza, sei in ritardo, l'hai preso, l'hai toccato, l'hai sfiorato, va bene, va benissimo sfiorare, va bene, è fallo, certo, basta l'intenzione del fallo. Lo sappiamo, come con Meret, con Ronaldo proprio, e Ronaldo si toccò la caviglia per ore, dopo che Meret non lo toccò, e la caviglia, l'intenzione di toccarmi la caviglia, non è quello, è che quando una partita è vera, tu all'arbitro dici sì, però l'ho toccato qua. Cioè, non dico protestare perché ti sei sentito in colpa, hai l'esa maestà, hai toccato Cristiano Ronaldo, però glielo dici, dici sì, vabbè, ammoniscimi, perché magari la dinamica del fallo, però si è toccato in faccia, e chiedi scusa, e ti dispiace. Per tutta la partita, sorrisi, abbracci, Buffon, si baciava a Berardi quando quello sbagliava, il rigolo, lasciamo perdere, ma proprio consigli che si abbracciava con Buffon, evviva, abbiamo fatto tre punti tutti e due. Sassuolo, a che livello vogliamo arrivarci in questa Conference League, oppure non vi interessa perché De Zerbi sta già pensando allo Shakhtar, questa è una riflessione anche lunga, Ma questo ci porta a pensare che cosa? Che poi non ci saranno partite vere? Noi sfogliamo il calendario e vediamo perché diventa tosta, ragazzi. Allora, sabato ci sarà Genoa-Atalanta, Genoa-Atalanta, il Genoa è ampiamente salvo, e quindi... E quindi i valori in campo dovrebbero uscire fuori, e quindi l'Atalanta. Ricordiamo che Atalanta e Milan con una vittoria nella prossima giornata sono matematicamente qualificate, e poi ce la dobbiamo vedere con i Juventini. Quindi l'Atalanta farà di tutto per conquistare questa cosa già subito, in modo tale che poi con il Milan sarà una passerella. Dopodiché ci sarà Juventus-Inter, e io vi dico una cosa, se l'Inter vince la partita io mi taglio una bella ciocca di capelli davanti a tutti, ma proprio una bella ciocca di capelli. Lo prometto, non quei due zilli, ma proprio una bella ciocca, faccio un taglio netto, se l'Inter vince la partita con la Juventus. Se invece, come credo, la Juventus vincerà, ma proprio alla grande, porterà i tre punti a casa, voi verrete qua e mi direte, avevi ragione. Ma non è questione più di forza in campo, perché l'Inter ha vinto anche con la Roma. Benvenuto Valentino Iuliano, proprio Iuliano si chiama. Inter, Juventus Ronaldo, a volerlo fare apposta non poteva essere. Dopodiché il giorno dopo, guarda un po', il Napoli va a Firenze, e di giorno, di mattino, io mi dovrò svegliare alle sei e mezza del mattino, lasciamo perdere, e il Milan andrà a giocarsela con il Cagliari. Il Cagliari che non è salvo, ma poco ci manca, perché poi andiamo a vedere anche la situazione di quelle che devono retrocedere, che insomma stanno inguaiate. Alla fine il Cagliari si trova a 36 punti in questo momento, il Benevento deve vincere entrambe le partite, e sono partite con il Crotone, e ci sta, e poi con il Torino, dove il Torino non è salvo, quindi è complicatissima, e dovrebbero poi venire meno, sia Torino che Spezia. È complicato retrocedere per il Cagliari, perché poi Spezia e Torino hanno lo scontro diretto, e quindi qualche punto se lo levano, lo Spezia poi deve andare a giocare con la Roma, il Torino, proprio con il Benevento. Quindi il Torino ha questo doppio scontro diretto per la salvezza. Io credo che il Cagliari, che deve affrontare il Milan, e poi il Genoa strasalvo, il Cagliari può pure perdere col Milan, poi vanno lisci. Ma perché è importante la partita Fiorentina-Napoli? Ora, io dico che su Gattuso non ho dubbi, ci metto la mano sul fuoco, io per niente metterei la mano sul fuoco, ma non ho dubbi che Gattuso farà di tutto per vincere, per portarci in Champions, non ci sono retropensieri da parte del nostro mister. Io mi rivolgo semplicemente ai giocatori della Fiorentina, no? Che non hanno più niente da chiedere a questo campionato, e la partita contro il Cagliari lo ha dimostrato, uno 0-0 che nessuno mi ridarà indietro, i 90 minuti che ho perso, veramente brutta roba. Ma oltre a voler vendicare la sconfitta per 6-0 dell'andata, eh ma se questa storia che è Gattuso è molto vicino alla Fiorentina è vera, ma secondo voi i giocatori della Fiorentina non faranno di tutto per impressionare il mister? Perché un mister che probabilmente si trova lì pronto a firmare, può già dire, io quelli che ho visto, questi mi piacciono, questi li potete vendere, questo deve essere per forza confermato. Faranno di tutto ragazzi, non ci regaleranno niente, quindi non immaginate situazioni di scanserecci, proprio niente proprio. E poi l'ultima giornata, dove Atalanta-Miran potrebbe essere una passerella, Bologna-Juve, Bologna ampiamente salvo, potrebbe essere una passerella, e poi c'è Napoli-Verona, che se io mi metto d'accordo con il mio amico Renato, lui me li dà pure i tre punti, ma purtroppo non tutti sono come Renato, sempre bravo, disponibile e supportevole il Verona con il Napoli. Se ci può fare lo sgambetto storicamente ce lo fa, la fatal Verona, il Verona è fatale per tutti, è mica solo per noi, ma ovviamente sarà partita vera anche quella, un Verona che ha staccato completamente la spina, e che brutta figura che fai, fino alla fine, e poi perdi con il Napoli dopo che avevi fatto così. E Zaccagni non vorrà impressionare... Insomma, vi renderete conto ragazzi, che ci siamo infognati in una situazione veramente complicata, e io vorrei tanto darvi questa gioia, è tutto nelle nostre mani, il destino è nelle nostre mani, sì, è tutto vero, se ci vanno bene le cose, se si sblocca la partita in fretta, come siamo stati bravi a fare nelle ultime partite, se fai il secondo gol però non te lo annullano per una carezza, perché poi va a finire che vai un attimo in difficoltà, io vi do una speranza, che è il signor Victor Iron Man. Victor Iron Man ha quella freschezza mentale, proprio perché non l'ha subito, quello che abbiamo subito noi, quello che ha subito Insigne, quello che ha subito Zielischi, quello che ha già subdorato Lozano, perché Lozano già ha subdorato nell'anno in cui lui esordisce, segna con la Juve, e poi perdiamo quattro tre. Ricordiamoci, Ancelotti, Lozano già ha subdorato, tutti gli altri giocatori sanno cosa significa insomma giocare in Italia, e se ne sono bene accorti. Ozymane no, Ozymane dice, sui social lui dice, quasi fatta, cioè lui ha quella sensazione proprio a dicere, va tranquilli, una palla vagante, io la attacco, me li mangio, e segno, oppure faccio segnare. Io punto tutto su Ozymane, poi Ozymane ovviamente può far segnare gli altri, può arrivare Zielischi da dietro, può arrivare Lozano come è successo, Politano che magari torna al gol dopo che se ne è mangiati un paio ultimamente, lo stesso Insigne che ha fatto una stagione straordinaria e potrebbe coronarla raggiungendo un record di gol. Speriamo che non si ingrippi al riguardo. I giocatori mi devono dimostrare che non sono fragili mentalmente, altrimenti io insisterò con la canzone, e cerchiamo di diventare virali con la canzone, ma voglio rimanere sconosciuto per sempre. Anzi, per chi è arrivato fino alla fine, ho una piccola richiesta per voi. Su Instagram, io mi chiamo Valerio Fluido, voi potrete mandarmi un, se vi va, ma lo facciamo subito, non aspettiamo la fine. L'idea di Fabio Versatile è questa. Mandatemi un 5-10 secondi massimo di Rino, grazie per quello che hai fatto, scusaci per quello che ti hanno detto, scusa lì, perché no lui, scusa lì per quello che ti hanno detto, resta con noi, non restare con noi, una parola per Gattuso, per ringraziarlo per il percorso, e per quello che ci ha fatto vedere, se poi volete convincerlo a rimanere, vi lascio completamente libertà di messaggio, voglio raccogliere il vostro pensiero su Gattuso, e cercare di farglielo arrivare. Non so quanto lungo verrà il video, non so se sarà facile da condividere sui social, ma poi ci organizzeremo col canale Telegram, e ognuno lo condividerà, dobbiamo ovviamente taggare tutti quanti, che è quello che sta più sul pezzo, Manolas che ha visto la mia storia, Insigne eccetera eccetera, li dobbiamo taggare tutti, e prima o poi qualcuno, per sbaglio pure lo vedrà, e magari lo farà vedere al mister, io contatterò i miei addetti ai lavori, e cercheremo di fare questa cosa, giusto per toglierci uno sfizio, perché non vorrei che Gattuso se ne andasse, con quell'amaro in bocca, dice mamma mia, a Navolo come mano trattato cesse, perché lui poi, ha sentito le cose brutte, ma magari non ha sentito quelle positive, perché c'è stata una bella fetta, specialmente nell'ultimo tempo, dove qualcuno cambia pure idea, e sale sul carro, a fatica, lui non l'ha sentita questa cosa qua, e allora io, mi piacerebbe tantissimo, fargliela arrivare, da New York vale il refluido, e tutto non bollate, non bollate adesso ragazzi, non bollate, perché io, vedi, io sono pronto per lottare, vedi le notifiche canale telegram, i pastetti biscotti, quindi dobbiamo arrivare ai diecimila, e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale telegram, come poi dovete praticamente fare, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime, io poi non mi ricordo, come mi chiamo, eh, e poi vi iscrivete al canale telegram, e poi vi iscrivete al canale telegram, e poi vi iscrivete al canale telegram,